Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Pina Milda e vedremo una canzone tratta dalla serie tv Mare Fuori. La canzone si chiama? O Mare Fuora. Ah, la canzone si chiama O Mare Fuora, che devo ancora iniziare a vedere io, tra l'altro, Pina, però inizierò a guardarla perché mi aveva detto che è bella. Esatto. E quindi, dopo la sigla. Bene ragazzi, questo video si compone di tre accordi all'inizio, che sono Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re. Poi avremo il Si minore, Si, Re, Fa diesis e il Mi minore, andiamo un po' più qua, Mi, Sol, Si. Vi ricordo che gli accordi si possono prendere sia più su che più giù. Cambia soltanto, diciamo, il colore più scuro, più chiaro, ma il risultato è sempre uguale. Quindi c'è un intro che fa così, con questi due accordi, e inizia. Appiccianata sigaretta, alla cesta mamma che chiangia in un darete, con questa fatica e mo' ci accattiamo pura regge e caserta, so' cresciuta in mezza via, sa' c'è quello che mi aspetta, non voglio un ero sistema, ma vuoi sistemate cose in mezza via, è meglio che ti accattiamo per farlo. Adesso c'è il ritornello, dove si aggiungerà il La maggiore e il Già. A questo punto c'è il ritornello, dove si aggiungerà il La maggiore, dove si aggiungerà Quindi accanto al sol la, lo diesis, mi Ed il re maggiore sempre Andiamo indietro Re, fa diesis, la Probabilmente lo suonerò un po' più su Però insomma gli accordi sono questi E fa così Bene, poi la canzone riprende come l'inizio Fa la strofa di tornello ma gli accordi restano sempre invariati Bene, come abbiamo visto questa è una canzone abbastanza semplice Da suonare al pianoforte E io ringrazio Pina Grazie a te Per averci invitato in questa sigla di Mare fuori E vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto E di attivare la campanella Esatto, così ogni po' lo offre c'è un video nuovo che fa Pina Lo potete guardare subito perché vi arriverà Io sono l'unica che guarda ogni video Come esce Un iscritto, mi nota Sì, sono io E Pina In più se volesse accompagnare la canzone anche utilizzando la mano sinistra C'è un video che ho realizzato che spiega come poterlo fare Quindi vi lascerò il link anche di quella puntata in descrizione Ok? Ciao ragazzi